Siamo qui nel luogo oggetto di tante discussioni delle ultime ore. Noi siamo fiduciosi nelle istituzioni e crediamo nei controlli dell'ARPAT, quindi siamo sicuri che non ci siano problemi. Sicuramente esteticamente non è un bel vedersi per i turisti che vogliono venire qui a passare le vacanze. Grazie a tutti. Da oggi a Marina, un posto meraviglioso, un posto bellissimo, c'è un po' di mare, ho dovuto notare poco, non c'è nessun problema. Venite a Marina, è un posto meraviglioso, non vi fate persuadere semmai informatevi meglio, non c'è niente da tenere. Viva Marina, viva Grosset!